L'unica cosa che voglio quando vengono a dormire da me è che mi facciano il letto Faci sto letto? Come? Faci sto letto Sei passato a controllare? No Ho faci sto letto? Devi parlare più cosmopolita oggi Quando tornate a Torino avvisate faccina sorridente Non posso continuare a parlare siciliano se fai così? Lo sai che passa le serate così Ogni volta che è alcolizzato parla con me Io gli dico per esempio quando ce ne torniamo a casa Guarda che c'è un ragazzo alla nostra destra e fa Iddo Io gli dico sì iddo Poi gli indico una ragazza e fa Iddo Si diventa in questa maniera Una E una Due E una Tre E una Quattro Bravo E una Questa è 5 È difficile È difficile Non ce l'hai Cin Cu Bravo Sìi E una Sei E una Sette 7 ci fermiamo a 6 ragazzi un grandissimo applauso per Chirico capace di contare fino a 6 e insegnare ai bambini di Minissale qua in una zona di Messina come insegnare a contare fino a 6 fammi i pronomi io Giuseppe Chirico io 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 manciari buon appetito ciao ragazzi Giuseppe Chirico